Termina 1-1 la sfida tra Giardinetti-Garbatella e Civitavecchia nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato agli Evi Elite, un punto che non smuove di tanto la classifica di entrambe le squadre che rimangono alla soglia della zona salvezza. Padroni di casa in campo con Fragassi in porta, Guida, Serpico, De Luca e Mestichezza in difesa, Pugliese, Rossetti, Rezze e Costantini a centrocampo, coppia di attacco formata da Paglino e Marrocco, risponde il Civitavecchia con San Filippo in porta, Caravani, Vienna, Bellumori e Vassalli in difesa, Converso e Tomaselli in mediana, Loe, Belloni, Gravina alle spalle di Mercuri. Sbagliato l'approccia alla gara dei padroni di casa e dopo 5 minuti gli ospiti trovano la via del vantaggio. Bellanova recupera palla, serve Tomaselli e si getta nello spazio, Lotto restituisce la sfera al tersino destro che da posizione defilata trafigge Fragassi di collo esterno. La risposta del Giardinetti arriva al diciassettesimo, Paglino lancia in verticale Marrocco che dopo un paio di finte calcia di punta esaltando i riflessi di San Filippo. Il gol subito sembra a squadra i biancorossi che dopo un minuto vanno ancora vicini al pari con Rezza che si libera in area e calcia, San Filippo si allunga e devia in corner. Al trentatresimo ospiti di nuovo insidiosi con Loe, la cui punizione viene neutralizzata in due tempi da Fragassi. Il Giardinetti aumenta il ritmo nel finale di tempo e al trentottesimo arriva la rete dell'1-1. Sugli sviluppi di un corner il pallone arriva a Costantini che se lo aggiusta con un doppio palleggio e pesca il 7 con un delizioso destro di controbalzo. Nella ripresa il match cala di intensità e le occasioni da gol scarseggiano. Dopo 10 minuti Costantini sfodera una parabola a giro su punizione che San Filippo non fatica a bloccare. Stesso risultato per il tentativo sempre da palla inattiva di Loe. La migliore occasione per vincere la partita capita al Civitavecchia sul piede di Mondelli che spostato sulla sinistra spara in porta sfiorando la traversa per centimetri. Prima del trebliche fischio anche i padroni di casa avrebbero la palla giusta. In occasione di un angolo Serpico svetta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa termina sul fondo. Non cambia il parziale Giardinetti Civitavecchia termina 1-1.